Le chieze e le cattedrali sono sempre stati luoghi di diffusione della cultura musicale, rendendola accessibile a tutti. Hanno da sempre visto convivere con identico peso specifico sonorità prodotte da diverse fonti e silenzi potenti. E' proprio l'architettura sonora dei luoghi di culto, con un'attenzione mirata per la cattedrale di San Cataldo, espirato un percorso inedito, una visita guidata tra i suoni e le voci della Basilica dedicata al santo irlandese protettore dei Tarantini. Un'iniziativa curata e guidata da postazioni diverse. L'architetto Augusto Ressa ha posto l'accento sul campanile, proiettando immagini d'epoca del campanile normanno e immagini del campanile attuale realizzato negli anni 50. La chiesa è un luogo in cui si suona, ci sono gli strumenti musicali, ci sono gli organi che sono gli strumenti musicali propri della chiesa e soprattutto delle cattedrali, però ci c'è anche il coro, il coro ligno destinato alle voci umane. La preghiera è stata legata al canto, tant'è vero che Sant'Agostino diceva che chi prega cantando prega due volte e questa è una cosa molto importante. L'attenzione di Monsignore Emanuele Ferro rivolta invece al concerto di campane, descrivendo il significato del suono nelle varie articolazioni. È un modo anche per raccontare alla gente, per riappropriarsi un po' di quelli che sono segni, appartenenze legate a questo luogo, perché la cattedrale continua a parlare attraverso le sue sonorità e diciamo che anche la preghiera si allena attraverso una buona scuola dei sensi.